Emergenza abitativa a Firenze, case sfitte senza inquilini e persone senza abitazione. La notte di Natale una famiglia di origine albanesi con minori ha occupato un appartamento in via Canova al numero 25 nel quartiere dell'isolotto. I condomini della palazzina di edilizia pubblica, esasperati dalle occupazioni abusive, hanno chiesto alla polizia di intervenire, ma gli agenti non possono fare niente visto che ci sono dei bambini. Allora gli inquilini si sono fatti giustizia da soli e hanno fatto uscire gli occupanti. Per portare sulle cronache il problema dell'emergenza a casa, gli inquilini si sono rivolti al consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, perché i cittadini non possono essere lasciati da soli. Le istituzioni non devono rimanere a guardare, devono fare giustizia loro e non lasciare che siano i cittadini costretti a organizzarsi da soli. Insomma, i condomini di via Canova si sono ritrovati da soli a dover fronteggiare questa emergenza e sottolineano come chi occupa toglie le case a chi ne ha o ne avrebbe diritto. Vi voglio dire che sono straniera, sposata con un cittadino italiano, quindi sono a Firenze da 15 anni, regolare, ma è stata clandestina. Io non ho una casa popolare, vivo con mia suocera in casa e con la sorella disabile al 100%. Ho una domanda delle case popolari da più di 10 anni e nessuno mi ha mai chiamato a segnarmi una casa popolare. Alla protesta si sono uniti anche i consiglieri comunali Marco Stella e Jacopo Cellai di Forza Italia e Francesco Torselli di Fratelli d'Italia.